Musica Alle ore 21, tutte le sere, in piazza, nelle piazze delle città che ospitano il campo regionale missionario, si fa festa. I giovani si preparano, canti, balli, sketch, scenette, testimonianze per raccontare la giornata passata ma soprattutto per condividere quella gioia che è scaturita dall'incontro con il Signore nell'ascolto e nella preghiera di tutto il giorno. E per concludere il momento di preghiera con l'immagine della Madonna di Loreto che accompagna i giovani in tutta la loro settimana di campo. Musica 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 Musica